Io sono soddisfattissimo del fatto che quest'anno nel campionato di Serie A le prime tre squadre siano tre squadre lombarde, quindi è veramente una grandissima gioia e la prova anche spero significativa del fatto che la nostra regione sta come sempre ricominciando a condurre la danza in tutti i comparti. Su Donna Roma sicuramente sono dispiaciuto perché era un giocatore nato dal vivaio e quindi io spero ancora che magari cambia idea, perché credo che anche simbolicamente certi giocatori rappresentano l'entità della squadra. Io credo ancora nel valore della squadra, del simbolo, per cui credo anche nel valore dei baresi, dei maldini e avrei voluto dire dei baresi, dei maldini, dei Donna Roma.